Le scuole primarie del Vomero e dell'Arenella presentano alla città le proprie iniziative di formazione, raccontando ai viaggiatori metropolitani i loro percorsi verso l'Europa. Un'occasione collettiva di incontro e di integrazione, che prevede ogni mattina fino al 16 dicembre una rappresentazione in alcune delle fermate della metro collinare e nella stazione superiore della funicolare di Chiaia. Mi auguro che voi portiate alla metropolitana, portiate ai trasporti pubblici, i vostri genitori, i vostri parenti, diciate guardate che è un posto bello, è un posto dove si sta bene, è un posto che rende la città più bella e più viva. Ma è anche un'occasione per affezionare i cittadini ai luoghi e ai servizi del trasporto pubblico, recentemente esteso alle fasce serali e notturne con l'iniziativa Bus by Night. Su questo territorio è stato investito molto in termini infrastrutturali, la metropolitana sicuramente rappresenta un punto cardine per questa prospettiva, bisogna lavorare però affinché l'intera città e l'intera provincia di Napoli sono gli esempi di più a comune all'Arena. Non utilizziamo la macchina, utilizziamo il trasporto pubblico e abbiamo la metropolitana più bella d'Europa, il mese di dicembre in occasione delle festività natalizie abbiamo prolungato l'apertura di un'ora.